Comincerà venerdì 14 settembre la seconda edizione del Picenza Short Film Festival, Kermess internazionale dedicata ai cortometraggi che si terrà presso l'auditorium Don Gerardo Senatore di Monte Corvino Rovella. 21 i cortometraggi in gara, frutto della scrematura effettuata su ben 120 lavori provenienti da 37 paesi diversi. È un festival sempre organizzato da giovani, un'organizzazione composta da giovani tra i 18 e i 27 anni ed è un festival sostenibile che ha scelto di valorizzare le proprie componenti, il proprio staff ed è un festival che appunto anche con esigue risorse economiche riesce pur sempre a fornire grande quantità e un grande prodotto per gli spettatori. Quest'anno abbiamo ricevuto e non ce ne aspettavamo neanche 120 cortometraggi da 37 paesi differenti di cui la maggior parte comunque italiani ed è stato molto difficile comunque sceglierli e sono stati ammessi alle finali comunque i cortometraggi migliori, in gran parte italiani ma in minima parte anche statunitensi, tedeschi e iraniani. È stato davvero molto difficile poter scegliere quanti fossero i cortometraggi meritevoli perché parliamo comunque dei prodotti destinati al circuito del cinema indipendente e si tratta quindi di un cinema di enite e di nicchia quindi sono comunque prodotti di grande quantità che richiedono molto tempo e molte risorse e quindi già il dover selezionarli è alquanto difficile e su questo comprendo perfettamente come si sentono gli stessi autori che ce li mandano essendo noi stessi una produzione cinematografica che con le risorse che abbiamo cerchiamo appunto di produrre cortometraggi e documentari da destinare a nostra volta al circuito internazionale dei festival. Grazie a tutti.